Buonasera, siamo appena all'apertura della Borsa Internazionale del Turismo Archeologico qui a Pestum, grazie all'ospitalità di sempre che ci accogliete con i nostri Eplian, con il nostro fare pubblicità per il Museo Correale. Il regalo che vi abbiamo portato quest'anno ve lo lasciamo, aprite, è il gioco del piripisso, in questo caso qua è un poster lì nella pieghevole e illustrato, praticamente somiglia un po' al monopoli antico, i numeretti, le figure, delle estrazioni su questo tavolo da gioco che vale molto di più di un Monte Carlo al Casinò, in quanto la perdita era, il punteggio, il valore era 64 volte la puntata. E quindi vendiamo, tra virgolette, anche il Correale in questo stand della Regione Campania, stiamo preparando una mostra, ci siamo tuffati alla grande con degli investimenti piccoli ma personali, con un sistema di crowdfunding. Se ci onorate di una vostra presenza e se ci alloggiate sulla campagna Antecat ci farà piacere anche per il 2016. Bene, io farò da ambasciatore ancora. Grazie della pazienza. Ci dovete sopportare comunque fino a domenica sì. Io sono qua. Grazie.